Seguimi, ma dobbiamo muoverci in fretta. Riesci a starmi dietro? Nessun problema. Che cosa ci fai ancora là? T'ho detto di starmi dietro. Unite, unite! Siamo arrivati. Francesco De Pazzi sta incontrando delle persone in quella chiesa. Come ci arrivo? Ci sono delle catacombe nel sottosuolo della città. Ti porteranno in un punto dove potrai udire tutto ciò che viene detto. Afferra quella maniglia di pietra, girala e spingila in basso. Grazie di tutto l'aiuto, Volpe. Buona fortuna.